Sono le 7.42 e stiamo per partire per il Fit Day Come si? Com'è? Com'è? C'è la Truskan E' Truskan Fit Day C'è la Truskan Fit Day Non è così malta Da fare colazione Siamo a un viaggio e c'è un signore qua dietro che sta dormendo, vero? Sta russando con una scema Guardatelo Si ora si è svegliato, ora si è svegliato, semplice Ok ragazzi siamo arrivati a Chianciana al Palamonte Paschi E qua dentro si avverrà la dimostrazione di Truskan Fit Day L'evento nazionale Fit & Box Potete sentire c'è già la musica Come on ladies, look ladies Kick your show, kick your show, kick your show Come on ladies, kick your show, kick your show Come on ladies, kick your show, come on baby Come on ladies Come on ladies Come on ladies Come on ladies Come on ladies